Tragico schianto la notte scorsa a Calcinelli. Domenico Di Martina, 24 anni di Lucrezia, è morto poco dopo le 24 per uno schianto fatale lungo la provinciale Orcianese, poco dopo lo svincolo per la superstrada. Domenico era in sella la sua amata moto, un'aprilia 125, proveniente da Montemaggiore e diretto verso Calcinelli, quando nei pressi dell'incrocio con via Barca una Opel Astra, condotta da un cinquantenne di Isola del Piano, secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri di Colli al Metauro, coordinati dal maresciallo Antonello Pannaccio che indagano sulle dinamiche del sinistro, nell'intento di svoltare a sinistra nello spiazzale usato da molti come parcheggio, avrebbe tagliato la strada al motociclista. Lo schianto violento e fatale è stato inevitabile e non gli ha lasciato scampo. Domenico è morto sul corpo. L'urto laterale contro la portiera del passeggero sul lato destro dell'auto ha distrutto la moto, resa irriconoscibile e straziato il corpo del 24enne. Inutili i primi soccorsi al motociclista, ai soccorritori del 118 arrivati con l'ambulanza, non è rimasto purtroppo che constatarne il decesso. I carabinieri hanno di prassi sequestrato i mezzi e sottoposto ad indagine per omicidio stradale il conducente dell'auto. Il magistrato inoltre ha disposto l'autopsia il cui incarico verrà conferito nella giornata di domani. Ma chi era nella vita Domenico di Martina, sangue siciliano e madre del nord, con l'amore per la cucina, amante delle auto e delle moto, con la sua Aprilia voleva girare l'Italia e l'Europa per realizzare le sue tante idee. Sicuramente, a detta di chi lo ha conosciuto ed ha avuto come studente all'alberghiero Santa Marta di Pesaro, dove aveva messo a punto la sua passione per la cucina, il fratello, il figlio, l'amico, il fidanzato, che tutti vorremmo. Non per spiccio la demagogia, ma dai messaggi e le testimonianze a parte chiaro come Domi, così veniva chiamato dagli amici, fosse un ragazzo d'oro, un ragazzo per bene, sempre positivo, educato e che contagiava tutti col suo buon umore, disposto a dare il suo aiuto a chi ne avesse bisogno. Domenico metteva nella cucina tutto se stesso, tanto da creare un piatto appositamente per la madre, scomparsa di recente, piatto che poi ha riproposto nei tanti ristoranti dove ha completato la sua preparazione, in Puglia, in una pasticceria di Lucrezia e di recente in un prestigioso hotel londinese. Basta leggere la sua pagina Facebook per rendersi conto del vuoto che lascia, il vuoto che lascia questa tragedia della strada che lo ha portato via, oltre che all'affetto degli amici e gli insegnanti, anche al padre e al fratello con cui viveva. Una grossa perdita, quella di Domenico, per la vita di molti, di cui ora sarà l'angelo custode.